Abbiamo visitato Laverna, abbiamo visitato Camaldoli, siamo stati alla Rondine e è stata un'esperienza molto bella perché io sono sempre sorpreso dai ragazzi, contrariamente a quanto pensano a volte gli adulti, io per me sono i migliori e anche in questi giorni ti sorprendono con la loro voglia di vivere, ti sorprendono con la loro capacità anche di stare insieme. 230 ragazzi adolescenti sono arrivati da Trento e hanno attraversato la provincia di Arezzo nei suoi luoghi sacri più importanti sulla Via della Pace. Un momento di accoglienza e di vitalità della nostra città perché quando si accoglie si ritrovano le proprie ricchezze, le proprie potenzialità e poi è un momento di freschezza perché così tanti adolescenti portano vita, portano gioia, entusiasmo, voglia di camminare e per me come vescovo, tra l'altro con l'amico fratello vescovo Lauro che è il vescovo di Trento, è una bellissima occasione quella di poter incontrare così tanti giovani, offrire loro una piccola testimonianza sul tema della pace e condividere questo tratto del loro cammino che vivono come esperienza estiva. Qual è il messaggio che vorrebbe che questi ragazzi riportassero a casa? Ma scoprire che gli altri sono una risorsa. Siamo in un momento dove si percepisce l'altro come un competitor, purtroppo molte volte come un avversario, ma è come un compagno di viaggio. Io in questi giorni ho insistito sul fatto di scoprire l'altro come quello che ti dà forza, cioè gli altri sono la tua forza. Grazie.